Grandissima emozione al grande fratello nella giornata del 23 gennaio. Infatti, è il compleanno di Garibaldi e l'amica Anita ha voluto fargli un regalo meraviglioso. Davanti a tutti gli altri concorrenti ha uscito fuori il suo dono e il festeggiato è rimasto stupefatto. Tra i due c'è un legame veramente molto forte e quasi mai hanno avuto problemi durante la convivenza. Ora che è giunto il grande giorno al grande fratello, con Garibaldi che ha potuto festeggiare il compleanno con gli altri gieffini, Anita si è presentata con un regalo speciale. Quest'ultimo non è stato affatto banale, infatti la concorrente si è messa di impegno e lo ha sorpreso con un dono che lui non potrà mai dimenticare e che conferma il rapporto sempre più stretto tra i due. Grande fratello, compleanno Garibaldi, Anita fa uno splendido regalo. Dunque, mentre lui era intento a divertirsi al grande fratello in occasione del suo compleanno, alle spalle di Garibaldi è arrivata appunto Anita che le ha dato un pacco regalo. La Olivieri è sembrata in imbarazzo. A quel punto, il giovane ha iniziato a togliere il fiocco e ha scartato il dono. Quando l'ha aperto, è rimasto senza parole dato che c'era anche una dedica bellissima. Nella scatola c'era una meravigliosa t-shirt con un'immagine stampata di Anita e Garibaldi. Poi nella lettera scritta dalla ragazza c'era scritto Se come il viso si mostrasse il cor, tu vedresti l'emozione del primo ricordo che ho di te. L'11 settembre 2023